Buonasera amici di Telesud e di Massafra, ci troviamo a casa Isabella dove si è appena conclusa l'edizione 2016 di Expo Sposi. Abbiamo gli organizzatori Giuseppe Stigliano e Rosa Colavito. Signori organizzatori, potremmo definirlo un grande successo? A vedere il pubblico che è accorso fin dal primo pomeriggio possiamo certamente dire di sì. Abbiamo avuto tre defilè, quello dei bimbi che è stato un successone, poi quello da cerimonia che non è stato da meno perché ha avuto un grande successo di pubblico e per concludere il defilè spose che era tanto atteso almeno alla vigilia dell'evento. Però in tutti e tre questi eventi abbiamo avuto un grosso successo di pubblico perché c'è stata tanta gente a guardarci ma anche gli espositori mi hanno detto che ci sono state tante prenotazioni. Rosa, siamo soddisfatti? Soddisfattissimi, sicuramente sarà un evento da riproporre per tutti gli sposi, grandi idee, grandi sconti, è stata una serata riuscitissima, adesso aspettiamo il gran finale con i fuochi d'artificio. Volevo ringraziare anche Carmela Scarano, la nostra violinista che ci ha omaggiato della sua presenza preziosa e a cui si deve insieme a qui presente Giuseppe Giannotta la scelta musicale dell'evento, quindi grazie Carmela e grazie Giuseppe. Grazie a voi per averci invitato e averci dato la possibilità di far parte di questa famiglia meravigliosa che avete creato, messo su con tanta gioia, tanto amore per il vostro lavoro. È sempre bellissimo condividere queste gioie con voi. Ringraziamo anche Niki Pezzolla e la sua wedding band che hanno contribuito notevolmente anche alla riuscita della serata. Quindi ringraziamo e facciamo un saluto agli amici di Vivi Massafra. Ciao! Baci baci! Baci baci! Baci baci! Grazie a tutti